L'era auto bianchi bianchina ed è stata una utilitaria del segmento lusso di grande diffusione e popolarità dal 1957 anno del suo lancio fino al 1969 anno in cui cessò la produzione presso stabilimento in Desia. Nata sul pianale della Fio 500, di questa era effettivamente la versione più esclusiva, destinata a un pubblico raffinato, che non si accontentava del prodotto maggiormente di massa. Una utilitaria che ha registrato uno zinghiero successo, oltre che in Italia anche in Francia. Per maggiori informazioni, Caravan Notizie! Grazie a tutti!